Stava facendo la sua solita camminata mattutina Domenico Pasinelli, un pensionato di 75 anni travolto e ucciso da un'automobile sulla Flaminia mentre stava attraversando la strada all'altezza dell'intersezione con via Forcolo. L'uomo ogni giorno usciva di casa all'alba per passeggiare fino al monastero di Montegiove con in mano una canna con la quale si aiutava nella camminata. Poi al suo ritorno aveva l'abitudine di fermarsi al bar Centorole a centenarola di fanua a poche centinaia di metri dalla sua casa per far colazione in compagnia di alcuni amici. Ma questa mattina al bar Domenico non c'è mai arrivato. La stessa titolare quando si accorta che il 75enne non c'era capito subito che qualcosa era andato storto. Intorno alle 5.30 infatti è stato travolto da una multipla guidata da una donna 65enne residente nella città di Fano. L'impatto è stato violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nel punto dello scontro rimane ancora uno specchietto e l'oggetto che l'uomo teneva in mano. Ed era questa la canna utilizzata dalla vittima ogni giorno per andare a passeggiare. Dopo averlo investito la donna si è subito fermata e ha avvisato sia il 118 che le forze dell'ordine. Nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto dell'incidente sono intervenute due pattuglie dei carabinieri di Fano per i rilievi di leggi e dirigere il traffico che ha subito leggeri rallentamenti. L'auto della donna è stata posta sotto sequestro. Nel pomeriggio invece è stata eseguita un'ispezione cadaverica. Domenico abitava in via Solferino. Proprio qua c'è la sua abitazione dove ha sempre vissuto con la moglie Filomena deceduta qualche anno fa per una grave malattia e Domenico è stato ovviamente a suo fianco fino all'ultimo momento. E' quando mi dispiace. Tanto che quando ha sofferto con la moglie anche lui. L'ha saputo adesso? Adesso. Quando mi dispiace. Conosceva bene Domenico? La moglie. Parlevamo tante cose e dicevamo che lui. Scherzavamo tante volte, tante cose e dicevamo che lui. E' quando mi dispiace. Domenico andava sempre alle otto in chiesa. Partiva alle sette e mezza qui. Alle otto l'ha chiesa qui. Non è ancora stata stabilita la data dei funerali. Domenico lascia un figlio.